Ok, 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 credo di aver capito, stai dicendo che in questo posto ci sono tantissime super persone? Ti lo stai ripetendo, ciao! Va bene, dimmelo di nuovo, scusa, sono un idiota, c'era un miliardario che aveva un'armatura di latte e poteva volare, giusto? Ok, e c'era un uomo verde molto arrabbiato, Hulk, Hulk, si dice che il protettore è un uomo di merda, si perché lo è, ora parlami di nuovo di quell'alieno viola che ama le gemme, perché sai una cosa amico, gli alieni non amano le gemme, gli alieni non amano le gemme, sai cosa amano gli alieni? E di questo che lo fanno, va bene? Signor, mi è fatto sparire la mia famiglia, per cinque anni Eh, cinque anni Sono tanti Insomma, forse, forse dovrei andare a New York a parlare di questo Spiderman Ecco sparito, non ha pagato il conto, niente mancia, niente